di nuovo ciao ho fatto pochissimi video in questi giorni perché non facevo altro che andare a lavorare e la sera andavo giù a cena al buffet del ristorante oggi è sabato sera sabato 16 novembre da domani cambio hotel e mi trasferisco nella città più vicino una cittadina si chiama baruccia città sono 160 mila abitanti però almeno l'hotel è situato nel centro della città e quindi è possibile uscire a piedi e potrò fare finalmente che passo attorno muovermi fare qualche video vedere negozi vedere gente qui mi sentivo veramente in prigione e da domani ricomincio del video ho fatto qualche video sul lavoro adesso vi farò vedere sul lavoro mentre uscivo dal lavoro e quello che quello che è il pranzo a mezzogiorno a presto ciao ciao questo è il mio ufficio container magazzino po di tutto dove lavoro io adesso sta arrivando il mio cibo di mezzogiorno dal cliente vi faccio vedere ogni giorno la sorpresa adesso vi farò vedere cosa cosa mi importa oggi il cliente vuole viziarmi ho portato del nan o ciapati e se devo capire un attimo la differenza delle cotolette delle patatine fritte che c'è questo non è il classico cibo indiano ma a volte mi soffrendo il cliente bene grazie buon appetito me ne sto andando via sto dietro le mie spalle e l'impianto che sto seguendo io ciao 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 Siamo sul Tuk Tuk, Hot To, detto in lingua, indiano, Hot To, e cerchiamo di arrivare a un supermercato. Alla prossima! Grazie a tutti. E qui c'è la discarica, ce l'ho aperta, questo purtroppo. Ci deve essere qualcosa lì. Adesso vado a metterci il naso. Sentite che musica, minchia. Pare. Disappare. Non sono riuscito a imbucarmi. E pensare che è la festa di una compagnia cliente dell'azienda in cui lavora io. Si chiama Birla. È una ditta che fa gomma. Della festa. Delle famiglie della Birla. Street food paura. Ero qua al computer, mi si è aperto il soffitto. Se passavo sotto mentre si apriva mi disfava la testa. Adesso arriva la manutenzione. Ieri sera c'era un compleanno per una bambina di un anno. C'era un macello. Questi sono i residui in giardino. Tutti i palloncini con la scritta Happy Birthday. Hanno fatto un disastro. Manco fosse una festa di laurea. La luce al mattino. Gli operai che salgono sull'autobus. Sono tutti autobus di fabbriche che partono da qui. Gli operai che partono da qui. Gli operai che partono da qui. un po' di esperimento con il tuk tuk. Mi sto andando ad un mall. Tanto per fare qualcosa. Perché la sera c'è poco da fare qua. Ma bene andiamo a vedere qualcosa di diverso. Domenico organizzo bene. Un po' di visite a templi. C'è il ponte vecchio da vedere. Ci sono un po' di cose. Questo è il tuk tuk che mi ha portato qua a lesa. C'è un macello. C'è un macello. Maroni dal traffico quel cane lì è lì in mezzo ma non si sposta di una virgola ho un nuovo amico mi ha fatto le carezze e non mi lascia più guardate i cocchioni che c'è ehi ma vai mi cerca cerca la mano vuole le coccole ma che bello è porterai via un caricato ehi 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 Per oggi sono stanchissimo e torniamo in hotel Per oggi sono stanchissimo e torniamo in hotel